Lunedì primo Consiglio Comunale dell'era Castrataro in un'atmosfera politica resa già elettrica dalle prossime elezioni provinciali e dall'acuirsi dello scontro in atto tra centrosinistra e centrodestra. Oramai è chiarito che i due schieramenti si scontreranno sia a Campobasso che a Isernia per usare le provinciali come test elettorale delle forze in campo in vista delle politiche e delle regionali del 2023. Quello che sembrava un appuntamento di routine alla fine si è trasformato in qualcosa di maledettamente serio e importante per la politica regionale e nazionale. Nella primavera del 2023 cioè tra 15 mesi si vota per le regionali e le politiche bisognerà eleggere quattro parlamentari, due deputati e due senatori, due col maggioritario e due col proporzionale, quattro posti su cui sono puntati gli appetiti di tanti se non troppi. Il bello è che l'appuntamento politico nazionale coinciderà con quello delle regionali, qui i posti in palio sono di più, 21, tra governatore e consiglieri ma gli appetiti nell'uno e nell'altro caso sono enormi e superiori alle 25 poltrone in ballo. In sostanza non c'è posto per tutti ma centrodestra e centrosinistra stanno stabilendo le loro priorità, ovvero decidere subito su chi puntare per i quattro posti da parlamentare e per quello da governatore. Sono cinque personaggi di peso tra Parlamento e Via Genova che dovranno far coincidere le loro aspettative con quelle dei partiti. Per le politiche sul proporzionale non ci sono incertezze, ognuno dei partiti candiderà il suo rappresentante e poi vincerà quello che prenderà più voti. Per il maggioritario invece si punta alle alleanze a capire chi sarà il candidato deputato del centrodestra e chi del centrosinistra, così come al Senato. È chiaro che al proporzionale sono avvantaggiati i candidati dei maggiori partiti, mentre al maggioritario bisognerà trovare la quadra con gli alleati. Stesso discorso anche al vertice della regione, pure qui i due schieramenti dovranno puntare su figure capaci di coalizzare le alleanze. Semplice a dirsi, difficile a farsi, ma in conclusione si può dire che per i big dei due schieramenti i posti pesanti in ballo sono cinque, quattro parlamentari e un governatore. Per gli altri venti, dell'una e dell'altra sponda c'è l'opzione regione, che comunque in termini economici non ha nulla da invidiare a chi andrà a rappresentare il Molise a Roma. Ragion per cui quello che accadrà il 18 dicembre a Palazzo Magno e in via Berta sarà un ottimo esperimento per capire che vento tira e quello che potrebbe accadere tra 15 mesi.